Assessore, la videosorveglianza al Pincio verrà rafforzata? In che modo? C'è un miglioramento di tutto il sistema della videosorveglianza della zona del Pincio, che ricordiamo ha 11 telecamere, andiamo a sostituire delle telecamere con dei strumenti più potenti e andiamo a potenziare anche tutto il circuito di alimentazione che è in dialogo con quello dell'illuminazione pubblica. Per cui è un'implementazione dell'impianto sostanzialmente che va a migliorare comunque tutta la videosorveglianza della zona del Pincio, che ricordiamo zona del Pincio, Giardini Roma, Via Corridoni, Porta Maggiore, Largo di Porta Maggiore, Larco d'Augusto e anche parte di Via Gram ci sono completamente sorvegliati in modo puntuale e grazie a questa miglioria lo saranno ancora meglio. Le telecamere saranno come sempre collegate con la polizia locale? Esatto, c'è una centrale in polizia locale dove c'è un piantone che le monitora costantemente e quindi sono comunque sotto l'occhio vigile del comando. Quando partiranno i lavori e qual è il costo? In questi giorni il potenziamento della rete elettrica e l'acquisto delle nuove apparecchiature vedono un importo di sotto i 5.000 euro di spesa. Grazie a tutti.